Al momento l'accesso al borgo di Montegrosso sarà assicurato da una rotatoria provvisoria, mentre nel frattempo la parte più consistente della strada ammodernata verrà collaudata e aperta, presumibilmente entro fine aprile. Sono le più importanti notizie arrivate a tarda sera ieri sullo stato di avanzamento dei lavori della strada provinciale 2 dopo l'incontro svoltosi in prefettura, in cui erano presenti la provincia Abatti, il comune di Andria, la ditta esecutrice dei lavori e i residenti di Montegrosso. L'accesso alla borgata è il nodo principale di una vicenda che si trascina da molti anni, ma che ora è ad un punto di svolta definitivo. Il pezzo di cantiere attorno alla borgata, verso Canosa, circa 500 metri, sarà stralciato dal collaudo dell'opera complessiva e permetterà la sistemazione della rotatoria provvisoria di accesso a Montegrosso. Il disagio su tutta la tratta dunque sarà di pochi metri rispetto all'opera principale, che entro il mese di aprile sarà collaudata e dunque funzionante. Una notizia importante per il momento è che tra pochi giorni permetterà in tutta sicurezza di giungere da Andria alla borgata per gli oltre 9 chilometri di ammodernamento della strada provinciale. Resteranno i disagi solo nell'ultimo pezzo di poco più di 500 metri, per cui si proseguirà con le opere, con la progettazione e con la richiesta di finanziamento della soluzione alternativa per l'accesso al borgo. Resta in piedi anche l'ipotesi che quella rotatoria diventi poi definitiva, anche se in quel caso ci sarebbero problemi burocratici legati al finanziamento dell'opera principale. C'è comunque soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale e della provincia di Barletta Andrea Trani per aver trovato una quadra che permetta in poco tempo l'utilizzo di una strada ad alto scorrimento in sicurezza senza mortificare l'accesso ad uno dei borghi già inserito tra quelli più belli d'Italia e della salute. Il cantiere, ormai durato sei anni, costerà alla fine i 28 milioni di euro iniziali oltre a quelli necessari per il completamento dell'accesso alla borgata. Le complanari tuttavia sono divenute estremamente pericolose nel corso del tempo e la riapertura della carreggiata principale appare quanto mai essenziale per evitare il susseguirsi di incidenti e problemi ai mezzi di trasporto.